Dottore, allora il vaccino finalmente anche approcita? Sì, certamente, era già nostro intendimento quello di avviare subito la campagna in concomitanza con quella di Ischia e così è andata. Nonostante le avverse condizioni meteo, siamo qua, oggi cominciamo e cominciamo con un ottimo viatico. Ve lo dico in quanto responsabile della medicina Covid di Ischia perché abbiamo appena restituito alla propria casa e in buona salute un paziente procidano che abbiamo ottenuto ricoverato da noi. Quindi questa cosa ci farà da buon viatico per questa operazione di salvataggio e di messa in sicurezza degli ultraottantenni. Vi lascio perché oggi abbiamo molto da lavorare. Grazie.